Salve a tutti, ben ritrovati e prima di partire con la news vi ricordo che potrete commentare qui sotto, condividere con i vostri amici questi video e se non siete iscritti iscrivervi al canale. Detto questo partiamo con la news. Occupazione abusiva d'estate. Succede a Roma. Era appena andato al lavoro ieri mattina l'uomo, di 54 anni, regolare assegnatario di un alloggio in zona Villa Gordiani, quando è stato avvisato da alcuni vicini che all'interno del suo appartamento era appena entrata una donna con quattro bambini. L'intervento immediato di una pattuglia della polizia locale del quinto gruppo prenestino ha reso possibile, dopo diverse ore, di riacquisire l'immobile convincendo l'occupante, una cittadina rumena di 43 anni, ad uscire spontaneamente. Un intervento reso ancora più difficile dalla presenza dei minori, tre dei quali suoi figli. Come da prassi è stata offerta assistenza alloggiativa tramite personale della sala operativa sociale. Al termine la donna è stata denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento. L'assegnatario è potuto così ritornare all'interno della sua abitazione, di proprietà di Roma Capitale, ringraziando gli agenti.